In questo numero del Salus Tg, Nature, da nuovi documenti, preoccupazioni su sicurezza ed efficacia della terapia promossa da Stamina Foundation. Un miliardo di fumatori nel mondo, anche se la prevalenza è in calo dagli anni Ottanta. Sapere che influenza fa è oggi possibile grazie al nuovo servizio del Ministero della Salute. Una serie di documenti schiaccianti visti da Nature evidenziano profonde preoccupazioni sulla sicurezza e sull'efficacia della controversa terapia a base di staminali promossa dall'italiana Stamina Foundation. Così scrive la rivista scientifica internazionale tornando sul caso Stamina, in un nuovo servizio pubblicato online e sulla versione cartacea. Le carte, trapelate, si legge nell'articolo, rivelano la vera natura dei processi coinvolti, a lungo tenuti nascosti dal presidente di Stamina, Davide Vannoni. Altre rivelazioni mostrano che i successi clinici rivendicati da Stamina per i loro trattamenti sono stati ingigantiti. Dal 1980 la prevalenza globale di persone che fumano tutti i giorni è scesa, anche se a causa della crescita della popolazione il numero dei fumatori è aumentato, arrivando a sfiorare il miliardo di persone, con un più 26% di sigarette accese, secondo uno studio statunitense. In pratica, in numeri assoluti, il popolo degli amanti delle bionde è cresciuto di pari passo con la popolazione mondiale. Che influenza fa? Questo è il nome del nuovo servizio del Ministero della Salute messo a disposizione dei cittadini per conoscere in anticipo, con pochi clic, il rischio di influenza settimana per settimana e a seconda dell'età, sulla base delle medie dei dati epidemiologici delle ultime stagioni influenzali. Si tratta di una sorta di meteo dell'influenza interattivo, disponibile sul sito www.campagnainfluenza.it, dove in tempo reale ogni giorno è indicato il rischio influenza. Il servizio è accessibile anche come app per smartphone da consultare in mobilità.